Il segnale è una porta a bareva stregata, il secondo termo invece più cinici, prima avete atteso e poi avete colpito, insomma sono tutti aspetti anche di una crescita mentale da parte vostra. Sì, fa che sì, siamo contenti per questo, la squadra sta crescendo, un grande segnale di maturità oggi perché dopo lo svantaggio abbiamo cercato di far muovere la palla, far muovere loro, l'ultimo tempo abbiamo creato cinque o sei occasioni da gol, nel secondo giustamente loro con un nome in meno si sono chiusi tutti nella loro metà campo, è stata dura trovare subito gli spazi però dopo sboccare la partita tutto si è messo per il verso giusto, loro anche stanchi, noi abbiamo gestito e fatto anche per questo gol. La classifica sarà sempre più bella ma...